In Puglia il via i sostegni per ammodernare il frantoio oleare in tutto il territorio regionale, lo rivela la Col di Retti Pugliese. In arrivo in Puglia i sostegni per ammodernare gli 839 frantoi attivi che lavorano 53 varietà di olive per offrire al mercato 5 oli a denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta olio di Puglia. Lo rende noto la Col di Retti regionale dopo l'intesa firmata in conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100 milioni di euro a sostegno dell'ammodernamento dei frantoi. Per Col di Retti è un'opportunità per la filiera olivicolo-olearia che vale oltre 1,2 miliardi di euro nella sua fase agricola e 3 miliardi in quella industriale. La Puglia produce quasi il 50% dell'olio prodotto in tutto il territorio nazionale. L'olivicoltura pugliese rappresenta il 32% di quella italiana e il 25% della superficie agricola regionale, aggiunge Col di Retti, di cui circa la metà degli olivi sono secolari e 3-5 milioni di esemplari addirittura mondiali. Si tratta di un sostegno concreto soprattutto agli oltre 100 frantoi che negli ultimi 5 anni non hanno aperto i battenti, a causa del crollo della produzione di olive, stimato per oltre il 70% in provincia di Lecce e del 50% nella zona sud del territorio provinciale di Brindisi. Per sostenere i produttori, l'Associazione Agricola Pugliese propone tra le soluzioni un piano strategico per la realizzazione di nuovi impianti olivicoli con varietà italiane, risorse per contrastare l'aumento vertiginoso dei costi di gestione delle aziende agricole e la creazione di nuovi sistemi di irrigazione. Inoltre concludono, servono opere infrastrutturali di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l'acqua piovana e renderla utile quando serve.